Salve dal vostro Ale280290 che torno a parlarvi, probabilmente per l'ultima volta, almeno per quest'anno, di Oscar! Perché mi importa ancora degli Oscar, almeno a me. Come saprete, ieri notte si sono tenuti gli Academy Award numero 93, cerimonia slittata per via della pandemia, e dal 10 febbraio dell'anno scorso si è passati al 25 aprile di quest'anno, purtroppo. Tanta attesa, ma in buona parte ne passa la pena. Perché, a differenza delle altre premiazioni recenti, quindi i Golden Globes, i BAFTA, gli Independent Spirit Award, dove c'erano vari collegamenti in giro per il mondo, dove praticamente venivano annunciati in diretta stream i vincitori, e quindi non erano tutti radunati in un unico insieme, e quando il premiato veniva annunciato non c'era nessun premio da ritirare. Ecco, in questo gli Academy Awards sono distinti perché hanno organizzato due differenti sedi, poi non c'erano tutti i candidati presenti, erano in collegamento da varie parti, però almeno potevano ritirare il premio e ringraziare con effettivamente il premio in mano, come ho fatto io. E anche se vabbè, non è il vero Oscar, ma va? No, cos'è che volevo dire? Ecco, questo l'ho apprezzato, Però questo politically correct che da una parte va bene, dall'altra ha tolto parte della magia, parte dello spettacolo, anche se la cosa delle canzoni introdotte prima e fatte sentire pre-registrate prima, comunque sopra il lobby theater è stata una bella cosa, ci sono state delle belle performance dei cinque candidati all'Oscar come migliore canzone originale, ma ci arriveremo. Insomma, allora, cosa posso dire? Che la cerimonia è in parte stata ok, ma in parte... Ah, è il sedicesimo anno di seguito che seguo gli Academy Award in diretta. La prima edizione che seguì fu quella famosa in cui doveva vincere Brokeback Mountain, ma alla fine a sorpresa, come miglior film, prevalse Crash di Paul Huggies. Quest'anno invece non ci sono state grosse sorprese, salvo due paia, quattro nello specifico, però andiamo con ordine. Allora, cosa penso dei vincitori di quest'anno? Allora, una parte di me è molto contenta, una parte di me è molto triste, e poi c'è anche un'altra parte che è ok con le scelte, che alla fine non ci sono state grosse sorprese, anche se qualcuna c'è stata, e però non sono mancate le delusioni, le perplessità personali, come sono sempre immancabili del resto. Allora, qual è la parte in me felice? Quella da disneyano. Per quale motivo? Perché il grande triunfatore di quest'anno, cioè due dei grandi triunfatori di quest'anno, battono bandiera a disney. Uno è il film che ha avuto più premi di questa edizione, ed è uno dei miei due film del cuore, e l'altro è anche quello tra cattol disney. E' una coincidenza, non ci posso fare niente. Li ho amati, li ho visti più di una volta, e mi sono piaciuti un sacco. Dicevo, il film più premiato della serata, il grande annunciato vincitore scontato, ma meritato, anche non così tanto scontato. E' stato Nomadland di Chloe Zhao, scritto, diretto, prodotto e montato, infatti era candidata in tutte e quattro le categorie, ha vinto come produttrice del miglior film, e per la miglior regista, diventando così la seconda regista donna nella storia, nei 93 anni di storia dell'Academy, solo la seconda regista donna ad essere premiata, la prima di origini cinese. Undici anni fa, trionfò, come ben saprete, Catherine Bigelow con The Hurt Locker, quest'anno il turno di Chloe Zhao, e di Frances McDormand, che anche lei entra nella storia. Perché? Perché battendo quasi ogni pronostico, si impone tra le attrici protagoniste, vincendo, tra parentesi, appena tre anni dopo la sua seconda vittoria, con tre manifesti a Ebbing Missouri, con il quale aveva vinto a destra e al manca. E a 24 anni di distanza dal suo primo storico trionfo, sempre come miglioratrice protagonista per Fargo, ed è diventata quindi la Daniel Day-Lewis delle femmine, perché anche lui, come ben saprete, ha vinto tre premi attoriali, tutti e tre come miglioratore protagonista. E alla vittoria come miglioratrice per la sua Fern di Nomadland, vittoria che mi ha fatto molto felice, perché ho amato il film e ho amato il personaggio, si aggiunge anche la statuetta pure per la McDormand come produttrice del miglior film, salendo quindi a quota 4, quindi diventando tra gli artisti in generale più premiati nella storia dell'Academy, appunto, cosa che mi ha fatto molto felice. Così come sale tra i più premiati anche il regista dell'altro, il mio film dal cuore del 2020, ossia Soul della Pixar. È il ventesimo film d'animazione premiato con la statuetta apposita per i film d'animazione, l'undicesimo targato Pixar, e il terzo diretto da Pete Docter, che aveva vinto la prima statuetta dieci anni fa, no, undici anni fa, con Up, e la seconda statuetta invece è arrivata cinque anni fa con Inside Out. Io li ho amati tutti un sacco. Up e Inside Out, sono rispettivamente al terzo o al secondo posto tra i miei film d'animazione Pixar preferiti al primo, cioè alla ricerca di Nemo. Solo è un po' più in basso nella mia classifica personale, però è pur sempre tra i primi dieci. E queste altre due vittorie, questa doppietta, insomma, era abbastanza scontata, ma meritata. Infatti era candidato a tre premi per il mio film d'animazione, per il sonoro e la colonna sonora. Sonoro è l'unico che non ha vinto, ma di questo ne parleremo più avanti. Vince per il film d'animazione, appunto, al regista Pete Docter e alla produttrice Rana Murray, che era la sua prima vittoria. Mentre per la colonna sonora vincono Trent Reznor e Atticus Ross dieci anni dopo il loro primo triunfo con The Social Network di David Fincher, erano candidati anche per l'altro film di David Fincher, Mank, di cui parlerò fino avanti, e il duo Reznor-Ross vince insieme al jazzista John Baptiste, che quindi entra nel club dei premiati dell'Oscar del settore jazz. Era dai tempi di Herbie Hancock che un jazzista non vinceva l'Oscar, quindi questo fa molto piacere, a me piace molto il jazz, sono un amante del jazz, e questo mi fa molto piacere. Ok, queste sono le mie due più grandi gioie, ma qual è il mio più grande dolore da italiano che l'Italia, purtroppo, nonostante avesse tre artisti a rappresentarci, anzi no, dico quattro artisti, a rappresentarci in tre categorie diverse. Torna a casa a mani vuote. Ebbene sì, perché la nostra Laura Pausini, nonostante avesse il Golden Globe vinto per Io sì, sin, dalla canzone che accompagna i titoli di Coda della Vita davanti a sé, e speravo che avesse qualche chance di vittoria, purtroppo, come da pronostico, non vince. Però non vince neanche la favorita. Era dato favorito a Speak Now di Leslie Odom Jr. da quella notte a Miami che ha vinto il Critics' Choice Award. E invece vince la cantante Her per la canzone Fight For You da Judas and the Black Messiah, che quindi non vince solo il premio per il miglior attore non protagonista, scontato ma meritato, a Daniel Caluglia nei panni di Fred Hampton, il Black Messiah del titolo. Mentre in ambito tecnico, cioè le altre statuette tecniche, erano per i costumi di Massimo Cantini Parrini e il trucco e parrucco, firmati rispettivamente da Dalia Colli e Francesco Peguretti, per il Pinocchio di Matteo Garrone. Purtroppo nessuno di questi ha vinto la statuetta. In entrambe le categorie ha pervarso Marainy's Black Bottom. E la costumista Anne Roth a 89 anni è diventata l'artista più anziana premiata in generale e a 24 anni anche lei di distanza dalla sua prima vittoria per i costumi del paziente inglese. In quel caso era presente, questa volta invece non c'era. E anche per il trucco prevale Marainy's Black Bottom. Hanno fatto un bel lavoro nel trasformare Viola Davis nella Marainy del titolo, però per me. doveva vincere almeno per il trucco Pinocchio. Mentre per i costumi vedevo meglio Alexandra Byrne per i costumi d'epoca di Emma. Ma questo, vabbè, è un'altra storia. Ci sono state molte doppiette questa notte agli Academy Awards. Vabbè, se andiamo un velo sull'Italia che torna a casa senza neanche una statuetta. Speriamo bene per l'anno prossimo. E proseguiamo con i film che hanno fatto doppiette perché ce ne sono stati. Oltre alla tripletta di Nomadland, alla doppietta del Mi Amato Soul, alla doppietta del già citato Judas and the Black Messiah e anche di Marainy's Black Bottom, altri due film riescono a tornare a casa con... Ah, no, tre film. Tre film riescono a tornare a casa con più di una statuetta. E uno è Sound of Metal che, come avevo pronosticato delle sei nomination, di cui il quattro di peso, riesce a concretizzare le due tecniche per cui è candidato. Ovviamente per il sonoro e riesce a vincere anche per il montaggio. Dopo aver vinto il BAFTA si impone anche agli Oscar il danese Michael qualche cosa. la Danimarca può gioire perché, oltre al montatore danese di Sound of Metal, triunfa strameritatamente tra i film internazionali con il bellissimo Un Altro Giro di Thomas Finderberg, candidato anche per la regia, che dopo il BAFTA si impone anche agli Oscar come miglior film internazionale. Quarta vittoria per la Danimarca agli Oscar, dieci anni dopo il trionfo di Susan Beer in un mondo migliore. E allora proseguiamo con i film che hanno vinto più di una statuetta e si arriva a sorpresa a Menk perché i pronostici lo davano come tra i grandi spacciati perché delle dieci nomination l'unica categoria in cui era certo vincesse era per le scenografie premio che effettivamente ha vinto. Se non che poco dopo si è imposto anche nella categoria miglior fotografia dove il favorito era Joshua James Richards per Nomadland che aveva vinto il Critic Choice Award e il BAFTA e l'Independent Spirit Award se non che l'associazione e il sindacato dei direttori della fotografia ha ribaltato un po' il verdetto e ha premiato l'elegante bianco e nero utilizzato da Eric Messerschmidt per il film di David Fincher che quindi torna a casa con un magro bottino però meglio della singola statuetta prevista due è un buon risultato saranno contenti quelli che hanno amato il film anche a me è piaciuto non un capolavoro però niente male insomma mentre l'ultimo film che ha vinto più di una statuetta è questo per la gioia di moltissimi essendo al primo posto sul radar di molti favorito di moltissimi amato da un sacco di critici di spettatori però paradossalmente ultimo nella mia graduatoria personale è The Father di Florian Zellea al suo esordio registico questo drammaturgo adatta la sua opera insieme a uno sceneggiatore già premio Oscar ma si parla di ben 32 anni fa quando vinse con le relazioni pericolose parlo di Christopher Hampton dopo il BAFTA i due si impongono anche agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale ecco un'altra cosa che mi ha fatto storcere molto il naso di questa cerimonia è che il premio come miglior film per la prima volta nella storia dell'Academy di solito viene dato per ultimo questa volta è stato dato per terzultimo perché boh non lo sapremo mai fatto sta che gli ultimi due premio sono stati dati agli interpreti e la migliore attrice protagonista che molti si aspettavano Carrie Mulligan per una donna promettente che vince ovviamente scontatamente ma meritatamente il premio per la sceneggiatura originale filmata dalla regista Emerald Fennell e mentre per il migliore attore protagonista io come molti pensavo e speravo con tutto il cuore che vincesse il premio postumo Chadwick Boseman non tanto perché era un premio postumo quanto perché io il suo personaggio in Ma Rainey's Black Bottom per me è stata una delle migliori performance forse la migliore della sua carriera una delle migliori del 2020 in generale assieme a quella di Francis McDormand in Nomadland fatto sta che appunto per la gioia di molti a prevalere tra gli attori protagonisti non è Boseman ma quello che per molti effettivamente è la miglior performance di un attore protagonista dello scorso anno ossia Anthony Hopkins per appunto The Father che a 83 anni diventa l'attore più anziano premiato con la statuetta e arriva a questa sua seconda vittoria a ben 29 anni di distanza dal suo primo storico trionfo alla sua prima incredibile candidatura come miglior attore protagonista per Il Silenzio degli Innocenti ah poi prima che mi dimentichi tra gli attori a parte già citati Daniel Calughi a Francis McDormand e Anthony Hopkins un'altra attrice per la quale sono molto felice vittoria scontata ma meritata è la coreana per la prima volta una coreana viene candidata e premiata agli Oscar Yu Zhongyun che ha più di 73 anni anche lei è dai più anziani vincitori della statuetta che rappresenta come da pronostico l'unica vittoria dello splendido Minari scritto e diretto da Li Isaac Chang e purtroppo mi dispiace ma Glenn Close è rimasta al palo per l'ottava volta nella sua carriera anche se è stata protagonista forse del momento più esilarante della serata perché non c'era un diretto d'orchestra non c'era un direttore d'orchestra scusate sono ancora un po' impastato però c'era questa specie di DJ che faceva un po' la showman e a un certo punto ha fatto questo show conosce questa canzone è stata candidata ha vinto l'Oscar una cosa del genere a un certo punto ha voluto convoggere Glenn Close e si è messa a fare questa specie di twerking che è diventato virale perciò non avrà vinto l'Oscar e grazie al cielo non ha vinto neanche il Ratsy Award perché per eleggia americana era candidata sia all'Oscar come miglioratrice non protagonista che a Ratsy Award come peggioratrice non protagonista non ha vinto nessuno dei due però è vincitrice morale per via di questo momento che diventerà sicuramente virale e rimarrà nella storia dell'Academy per molto molto tempo a venire insomma allora direi che ho commentato tutti ah no mi manca il documentario che prevale come da come da copione il mio amico in fondo al mare molto bello ha vinto anche il Producers Guild Award il Premier Sindacato dei Produttori nella sezione dei documentari anche il BAFTA anche se il mio preferito era un altro documentario Netflix Creek Camp su disabili che si ritrovano in questo campo tipo di vacanze e decidono di migliorare le loro vite e di fare progressi per la loro comunità di essere trattati non come strani immarginati ma di essere più inclusivi anche se pure il documentario sul su questo documentarista che documenta questa sua amicizia con questo amico in fondo al mare che è appunto un octopus un polpo molto molto bello anche quello consiglio tutti e due sempre da Netflix arrivano anche le vittorie per il miglior cortometraggio Two Different Strangers due stranieri un corto live action che fonde ricomincio da capo alle ingiustizie contro i neri d'America si ricorda molto purtroppo il brutale assassino di George Floyd lo scorso anno però è un cortometraggio live action che consiglio vivamente il corto documentario che è stato premiato colletto purtroppo non l'ho visto però dicono che sia bello bellissimo è il corto animato premiato se succede qualcosa vi voglio bene If Anything Happens I Love You anche quello disponibile su Netflix sulla piaga delle armi in America che purtroppo portano a delle stragi nelle scuole e ogni tanto ci sono sempre dei piccoli innocenti che pagano con la vita e di conseguenza i genitori devono sopportare questo lutto ineluttabile ma è fatto molto bene dura poco ma è un colpo al cuore e non si può non vedere assolutamente da vedere preparandosi i fazzoletti perché probabilmente vi commuoverà vi colpirà però allo stesso tempo direte bellissimo Oscar strameritato assolutamente allora direi che non dimentico nulla perciò posso terminare qui il mio video i fan di Nolan non mi perdoneranno mai i fan di Nolan non mi perdoneranno mai dimenticavo il premio per gli effetti visivi perché è vero Pete Docter sale a quota a tre premi vinti grazie ai suoi film d'animazione però anche Andrew Jackson mi pare un addetto degli effetti speciali sale a quota a tre premi grazie all'ultimo film di Christopher Nolan Tenet che dopo il Critics Choice Award del Barth vince anche all'Oscar per gli effetti visivi e per Christopher Nolan arriva il suo terzo film premiato in questa categoria dieci anni dopo Inception e sei anni dopo Interstellar meno male che ho fatto mente locale mi stavo dimenticando Tenet e i fan di Nolan non me l'avrebbero mai perdonato allora direi che li ho commentati tutti sono prevalentemente soddisfatto non del tutto però uno non sarà mai del tutto soddisfatto ci si deve accontentare però perciò quindi mi dispiace per l'Italia veramente tanto felicissimo per la doppietta Disney tra Soul e Nomadland che vi consiglio vivamente Soul sta già su Disney Plus Nomadland arriverà a fine mese su Disney Plus e per chi può chi non ha Disney Plus ma lo volesse vedere al cinema da fine mese dal 29 ci sarà anche al cinema e lo consiglio vivamente con tutto il cuore superato il quarto d'ora rimango sotto i 20 minuti il vostro alle 28.02.90 vi aspetta il prossimo mese per i Davidi Donatello e continuiamo così viva il cinema finalmente da oggi si torna in sala e vai viva noi avanti del cinema ciao